E' finita 8-1 a favore del football club Matese, la prima amichevole della stagione nel silenzio surreale dello stadio Luigi Ferrande di Vietimonte Matese per le note disposizioni anti-covid che vietano l'ingresso al pubblico. Le squadre sembrano prima studiarsi un po' nei primi minuti con gli ospiti in tenuta bianco-rossa che mettono tutto l'impegno possibile per ben figurare. Dall'altra parte la squadra matesina in una inusuale divisa nera sembra apparentemente più bloccata rispetto agli avversari più vispi e volenterosi sotto l'attenta vigilanza di mister Urbano che dalla panchina dispensa consigli e qualche volta alza anche la voce. Matese comincia con il solito 4-4-2 che mantiene per buona parte della gara e che dà le prime positive indicazioni. La differenza tattica e tecnica fra le due squadre si vede tanto che poi arriva la goleata e tante indicazioni per il tecnico soprattutto alla distanza quando anche gli avversari calano un po' il ritmo avendo speso molto nella prima parte della gara. 8-1 il risultato finale. Da Pietimonte Matese è tutto Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it